Ed eccoci eroi delle buonanotte, buonanotte a tutti voi. È un venerdì speciale, anche questo, e si parla del potere creativo delle parole con Chiara Sparaccio. Chiara, benvenuti tra noi. Bentrovati, è per me proprio un piacere, un onore essere qua con voi in questo orario. È un orario un po' tardo, siamo tutte vestite un po' elegantine perché veniamo dai nostri rispettivi impegni, ma stiamo andando a dormire alla fine, questa è la buonanotte. Quindi anche lo spirito di questo incontro è quello di prepararci a dormire serenamente, a dormire bene. Chiara, io ti conosco da relativamente poco tempo, so che sei il caporedattore cronaca di Betapress.it e qui posso dire di essere io onorata di far parte di questo team che si è ampliato con un guizzo di, tra virgolette, spiritualità, un po' insensolato. Valore, valore. E la cosa che mi ha sorpreso in modo molto favorevole riguardo a te è che io ti immaginavo proiettata un po', sai, sulla attualità, sulla cronaca, sui fatti, così, sulla contingenza. Invece so che sei un'esperta di sanscrito che lo traduci e che ti sei preparata molto bene, anzi sei un appassionato dell'argomento riguardo alla sacralità attribuita alla parola come vibrazione, come suono nelle varie epoche a partire da quella primordiale della civiltà della Valle dell'Indo, partendo proprio dal sanscrito. Allora, io direi, visto che mi piace non solo mettere a loro agio i miei ospiti, ma anche farli parlare di quello che è il loro valore aggiunto, cioè del loro contributo all'umanità, a questo punto io direi parliamo della sacralità della parola. Come mai è stata attribuita questa sacralità alla parola? È in virtù del suo potere creativo o altro? E legando come delle perle a un filo questa storia della sacralità della parola dalla Valle dell'Indo fino ai giorni nostri, in che modo possiamo utilizzare concretamente nella vita di tutti i giorni, nel nostro quotidiano, questa consapevolezza del potere creativo della parola per migliorare la qualità della nostra vita, visto che è così fluida, è diventata così ricca di imprevisti, di scenari che da un momento all'altro non sono più gli stessi. Come possiamo far tesoro di questo potere creativo in modo pratico oggi, nel 2020? Sì, mentre tu parlavi prendevo appunti. Ti ho visto. Sì, sì, perché ho bisogno degli appunti, ho bisogno dell'ordine. Mi chiedi del potere creativo, del potere della parola, perché la parola è magica, come è possibile, e mi chiedi se c'entra, se ha a che fare il suo potere creativo. Assolutamente sì. Io ne abbiamo parlato, io non sono una filosofa, ho una laurea in lettere e filosofia, io sono più che altro una studiosa di testi. Nel senso, quindi non porto avanti una idea, una filosofia mia, ma mi piace presentare le idee degli altri, ma perché io sono convinta della ricchezza, delle parole, di tutti quelli che hanno riflettuto su un certo argomento. La parola ha a che fare con l'annuncio. Gli angeli, in tutta una serie di culture, di religioni, sono coloro che in un modo o nell'altro portano una notizia. Quindi l'angelo è il portatore di parola. Nell'Antico Testamento, gli angeli sono spesso dei viandanti, che arrivano e portano una notizia. Gli angeli, i due viandanti che vanno da Abramo, e gli dicono, guarda che tu e tua moglie avrete una discendenza numerosa come le stelle del firmamento. Angelo è già una tipologia differente, quello che appare alla Madonna nel Nuovo Testamento. Quindi questo angelo che si presenta, ma ancora nelle varie culture, di angeli, quindi di figure angeliche, pienissima anche la cultura orientale, intesa come sia quella hindu, gli angeli sono anche nella cultura islamica. Gli angeli sono quelli che portano la parola chiave, la parola di svolta. La parola per cui, da quel momento in poi, se si è in grado di ascoltarla, nulla è più come prima. Wow! Pensiamo a noi, quante volte, questo è molto attuale, quante volte noi abbiamo qualcosa in cuore, una domanda, un bisogno che non riusciamo a soddisfare, una risposta che non riusciamo a trovare. Per caso, si accende la tv e ci arriva la risposta, piuttosto che una persona conosciuta o sconosciuta, senza alcun motivo, ci dice una cosa. Wow! Quello è un angelo. Angeli e... E scusami Chiara, se ti interrompo un attimo, gli angeli sono delle figure anche umane, magari inconsapevoli di essere messaggeri, portatrici di una notizia in un certo momento, per esempio, parlano per divina ispirazione, dicendo delle cose utili all'interlocutore, è così? Guarda, io mi scuso perché sono auto... mi autocito, però non lo faccio più. Ho pubblicato un libro che si chiama La cadenza delle parole e a un certo punto dico che tutti noi siamo angeli, nel momento in cui ci fidiamo del fatto che c'è quella cosa da dire in quel preciso momento. Tu sai, Jasmine, noi ci siamo sentite in questi giorni per decidere quando fare questo incontro e abbiamo scelto la data perché ci siamo dette oggi, adesso, probabilmente, qualcuno ha bisogno di sentire delle risposte che verranno da questo incontro. Fantastico, è vero. Quindi noi ci fidiamo, noi siamo angeli quando ci fidiamo di noi e quando non ci fidiamo del fatto che dobbiamo dire una cosa, piuttosto del fatto che dobbiamo ascoltarla, e allora purtroppo interrompiamo un flusso, interrompiamo il flusso della parola magica. Tutte le volte che non seguiamo questo flusso, non seguiamo il nostro destino cosmico. Ci sono anche qua, anche in questo, soprattutto la filosofia orientale se ne occupa, perché la filosofia orientale, in special modo quella hindu, quindi indiana, indiana dell'India, è legata al fatto che ognuno di noi ha un ruolo. Sai che loro hanno le caste. Anche le caste che poi troviamo, troveremo poi in Grecia, ne parlerà Platone, nella Repubblica, perché quando parla Platone delle differenti classi sociali, in realtà sta parlando di quelle che in India erano le caste. Tutto questo è molto interessante perché noi non abbiamo tracce reali e concrete dell'incontro tra queste culture. Sappiamo che Alessandro Magno andò in India, ma effettivamente non abbiamo prove di confronti di filosofi su questi argomenti. Fatto sta che in tutte queste culture, in forma trasversale, ci sono dei nodi fondamentali e comuni, tra cui anche, credo che sia quella all'origine di tutto, la parola. Sai, nell'Antico Testamento noi troviamo in principio il verbo. Giovanni, l'inizio del Vangelo di Giovanni, il principio era il verbo, perché nell'Antico Testamento era in principio era il caos. Ora vedi, ha senso, perché il verbo mette ordine nel caos. Perché anche nella moderna psicologia, la psicologia è una scienza giovanissima, interessantissima, che ha fatto nel giro di poco tempo dei passi enormi, ultimamente si è un po' fermata, dando spazio ad altre scienze, però è interessante, Freud diceva, ma anche Jung, risolviamo i nostri problemi, perché c'è stato un periodo in cui Jung e Freud andavano pure d'accordo, noi risolviamo i nostri problemi nel momento in cui diamo loro un nome. Anche qui, se guardi bene in un certo tipo di coaching, di PNL, è molto importante fare la scala delle emozioni. Ma perché? Perché noi più parole conosciamo, che riescono a descrivere le nostre emozioni, più riusciamo a trovare il nostro posto, a fare l'ordine dal caos. Quindi anche qua, vedi, tutte queste figure vetero e neotestamentarie. La parola, allora, in India, nella cultura indiana, che è comunque una cultura sconfinatissima, è interessante perché, come in tutte le culture grandi, si dice tutto il contrario di tutto. Ma a questo proposito ti dico una cosa molto carina del sanscrito. Quando si traduce il sanscrito c'è una regola ben precisa, ci sono tutte le regole grammaticali, ma una dice che in sanscrito ogni parola vuol dire il suo significato, un significato opposto, un'altra cosa completamente, il nome di una posizione sessuale e il nome di un elefante sacro. Incredibile. E la bellezza della traduzione del sanscrito è una bellezza, diciamo, esoterica. Ma esoterica non nel senso di magia spiccia. Noi, lo sai, parlando con te, quando parliamo di magia parliamo di stati e di dimensioni dell'anima, dell'essere. Certo. La parola sacra, il sanscrito, il sanscrito intanto è una lingua sacra, nel senso che non ha parlanti nativi. Le persone non nascono parlando il sanscrito. Il sanscrito è una lingua creata esclusivamente, se tu dovessi creare una lingua perfetta, perché cosa la creeresti? Perché dovrebbe essere perfetta? A parte che il perfetto sottintende il fatto che sia completo. Completo è immutabile. Sam, scritto, vuol dire sam, come intero, chiuso in se stesso. Crito è la stessa radice di creare, è cri in sanscrito. Quindi fatto, sanscrito vuol dire fatto in modo compiuto, non sono previste variazioni, non sono previste modifiche. Perché avrei bisogno di altre domande da fare? Partiamo dal presupposto che la realtà è una percezione. Noi la descriviamo, ed è quello per noi in virtù delle parole che conosciamo. Se avessimo un vocabolario limitato, la stessa realtà che descriviamo sarebbe limitata. Giusto, Chiara. Come mai il sanscrito definisce se stesso come lingua immutabile? Allora, il sanscrito è immutabile e si dice anche adamantino, ovvero come il diamante, perché è la lingua che serve ai sacerdoti, ai bramini o bramani, a seconda di quale parte dell'India e di quale tempo dell'India usi, per parlare con la divinità. Ok, quindi è una preghiera, è una lingua nata con questa funzione? È una lingua nata per dare ordine all'universo. Un detto dice, se al mattino il bramano si sveglia e dice la sua preghiera male, il mondo potrebbe scoppiare. Se un mattino il bramano si sveglia e si dimentica di dire la sua preghiera, il nuovo mondo potrebbe non esistere. O non sorgere il sole. Anche. Pensa che potenza che ha la parola in un contesto di questo tipo. Incredibile. Pensa ancora prima. Sai, una cosa è la parola. Allora, in sanscrito, intanto come è composta la parola? La parola è composta, tu perché mi hai fatto pensare, no? Perché tu a un certo punto parlavi di collana di perle. Allora, c'è una iconografia, una statuetta molto famosa di Shiva. Si chiama Shiva Nataraja. Raja lo troviamo in tante altre lingue, che è il rajà, no? Il re. Quindi, nata è la danza. Quindi questo Shiva Nataraja ha in mano dei tamburelli e la particolarità ha una lunga collana con 50 teschi. Anche qua noi teschi li troviamo anche nella Dea Kali. Considera che nella mitologia indiana, scusami, le divinità sono tante, assortite, molto simile per certi versi a certe divinità greche e latine, ma sono sovrapponibili spesso. Vedi, perché questa è proprio della mentalità indiana poi riportata nel sanscrito. Ti dico questo perché adesso vado a rispondere a una domanda che mi hai fatto sulla compiutezza del vocabolario. Queste 50 teschi sono in realtà 50 lettere dell'alfabeto sanscrito, che sono le vocali più le lettere. Si dice che nella linguistica esoterica, che è la linguistica specifica più studiata del sanscrito, perché la lingua sanscrita serve per parlare con la divinità, per parlare con la divinità devi usare un linguaggio simbolico, quindi esoterico. Particolarità di queste parole è che sono composte da consonanti. Quindi ogni consonante corrisponde a un demone, il demone è la realtà spirituale intermedia, e le vocali corrispondono agli dei principali. Si dice che la vocale A è Shiva, perché Shiva è la divinità principale. Perché a Shiva va la vocale A? Perché nel vocabolario indiano, sanscrito scusami, tutte le vocabulario, così come noi, anticamente, nel senso fino a qualche anno fa, adesso è diverso, però quando diciamo l'alfabeto, diciamo A, B, C, D, ovvero alle consonanti leghiamo la lettera I, adesso non si usa più, in sanscrito, sì, a ogni consonante per pronunciarla si legava la vocale A, quindi K, B, T, D, A, quindi Shiva, che è ovunque, è in ogni vocale. Vedi che già sei ragioni su un piano simbolico, hai un vocabolario infinito, ma non perché hai bisogno di parole, ma perché ti basta una lettera. Wow, ho compreso, quindi non esiste solo il vocabolario dei termini, esiste un vocabolario che include i suoni. Il mantra, il mantra, sai che il mantra adesso è un termine molto usato, si usano, è home, piuttosto che anche dei suoni. In realtà, noi diciamo che il mantra è una parola che ci ripetiamo spesso, perché ha un potere su di noi che va a modificare tutta una serie di aspetti, visibili e invisibili. In realtà, il mantra non sono parole compiute, il mantra è una successione di suoni che sortisce effetti a livello sottile. In India ci sono tra i bramani delle lotte, delle guerre a suon di mantra. Quindi tu vedi questi due bramani, da una parte all'altra della strada, che si scontrano a suon di suoni, escono con i lividi. Incredibile. E l'obiettivo di questi scontri qual è? Divertimento per chi lo guarda. In realtà sono esercizi spirituali per i bramani. Ok, e quindi in questo modo loro giocano col potere creativo delle parole, dei suoni? Assolutamente sì. Considera che lo scopo principale è bruciare karma. Il karma, vedi che troviamo anche qui la radice kri, di sanscrito, di creare. Karma vuol dire fare. Il karma di ognuno di noi in realtà non è la giustizia divina, quello tutt'al più può essere il dharma. Il karma è l'insieme di azioni buone o cattive che noi compiamo che si accumula nella nostra vita. Si dice che non c'è modo di non consumare karma. Non c'è, perché anche solo respirando noi bruciamo karma. È tipo il metabolismo, non lo so. Non è immutabile il karma, non è paragonabile al concetto che o al significato che noi attribuiamo al termine destino, per esempio. Secondo la filosofia indiana, no. Il karma lo creiamo noi. Lo creiamo noi istante dopo istante. Quindi se io reagisco a un evento d'attualità in un certo modo, consumo il mio karma? Sempre. Il karma lo devi immaginare come se cammini sulla spiaggia, hai una sorta di paletta e cammini, ti trascini sempre tutta questa sabbia che viene sempre via con te. Mentre il futuro è davanti, non ha a che fare con te. Sei tu che decidi che strada fare, senza dubbio. Allora, ci sono in India, ci sono varie correnti. Quelle che ho studiato io in particolare sono le correnti shivaite. Ci sono anche quelle che non sono shivaite, insomma. Però, il punto è consumare karma. Figurati che ci sono alcuni che vogliono consumare karma velocemente. Il tantrismo Kashmiro ha delle espressioni estreme, come anche, ci sono dei testi che parlano di necrofagia, addirittura, guarda che cosa carina, indice dei tempi. Si diceva che le donne e i pazzi avessero questo contatto diretto con la divinità. Non attraverso la lingua, ma proprio attraverso, quasi non avessero bisogno del sanscrito, perché già la divinità parlava con loro, perché erano menti semplici. Perché, essendo i pazzi e le donne completamente privi di razionalità e capacità speculative, secondo loro, per il Dio era più facile manifestarsi attraverso loro. Ma tu ti ricordi le baccanti nel mondo greco? Certo. Vedi che sono esattamente lo stesso tipo di figura che troviamo nel tantrismo Kashmiro, nelle donne. Ma permettimi un attimo di tornare al tema principale. Noi stiamo parlando di tutto questo, perché stiamo vedendo qual è il potere della parola. Abbiamo detto che il sanscrito è una lingua sacra, è una lingua creata a tavolino. La cosa bellissima per me del mondo indiano, della filosofia indiana, è che ogni filosofo considera che i livelli di raffinatezza del pensiero indiano sono altissimi. Mentre noi in Grecia con Aristotele parlavamo del principio di non contraddizione che dice che una cosa non può essere e non essere allo stesso tempo, in India le correnti Shaiva, ovvero quelle che seguivano la filosofia di Shiva, che poi anche quello a te è molto caro in realtà, perché si occupa della teoria dello spanda, ovvero della vibrazione, di come il suono va avanti, vibra e porta queste onde in tutto l'universo. Quindi, mentre in Grecia c'era il principio di non contraddizione, in India si era andati oltre. C'era la filosofia advaita, cioè dualista, scusate, l'advaita è quella dualista, l'advaita è non dualista. La filosofia advaita, ovvero che diceva che una cosa può essere e non essere allo stesso tempo, ma con un sistema di logica raffinatissimo, che era quello della naia, si chiamava, che portava veramente a ragionamenti incredibili. Come fa una cosa ad essere e non essere contemporaneamente allo stesso tempo? Semplicemente perché interessa dei campi spazio-temporali differenti. Detto così è molto complicato, perché stiamo infrangendo una serie di credenze con cui noi siamo cresciuti, noi siamo cresciuti con la filosofia greca. Però, ecco, piano piano leggendo i testi di uno dice ma certo, ma certo, anche io sono advaita. Quindi, la parola ha questo potere fortissimo di essere e non essere. Perché ti dico tutto questo? Perché ti dicevo che il filosofo indiano, prima di essere filosofo, doveva studiare benissimo la grammatica sanscrita. La grammatica sanscrita viene codificata da tale Panini nel 600 avanti Cristo, quindi grossomodo quando da noi c'era Socrate, proprio perché era lo strumento fondamentale per entrare in contatto con Dio. Il filosofo aveva capito che per comprendere l'universo doveva capire i suoni, doveva comprendere le parole. Quindi, ancora te lo ripeto, non è tanto la parola quanto il ragionamento che c'è dietro la parola e dietro tutto l'intero costrutto. Tradurre il sanscrito è difficile per una serie infinita di motivi, quindi non ci sono spazi tra le parole, una parola può significare più cose differenti, a seconda dell'autore che scrive una parola ha un senso piuttosto che l'altro. Però la cosa che ci interessa è il potere universale della parola. La parola è magica perché sconvolge l'universo. Adesso tu mi chiedevi nel quotidiano questo come si traduce? Si traduce come? Allora, tu molto più di me ricevi domande del tipo come la parola influenza la nostra vita. Innanzitutto il tipo di suono perché è vero che una parola che ha un suono ci influenza quindi una musicalità ci influenza in modo diverso rispetto a un'altra. Quindi una musicalità più morbida ci accarezza e ci coinvolge una musicalità più spigolosa ci mette difficoltà. A parità di significato? A parità di significato. Le parole non hanno mai lo stesso significato. Le parole hanno etimologie. L'etimologia è l'origine la radice da cui viene. Noi siamo anime antiche probabilmente quindi ci sta che in un modo o nell'altro riconosciamo il senso profondo delle parole per non contare il fatto che comunque le etimologie in realtà sono fedeli ai suoni. Sì. È meraviglioso quello che stai dicendo. Sai perché ti dico una cosa mia molto pratica. Quando compongo un testo per Facebook o un articolo per la rubrica in Betapress ascolto e riascolto nella mia mente le parole che uso e nella mia mente è come se sentissi un sottofondo musicale. cioè le parole devono avere una musicalità. Tu hai detto giustamente le parole non hanno mai lo stesso significato hanno invece un'origine etimologica che le riporta alle rispettive radici e quindi sono mondi differenti. Allora devo arguire che se io ricerco come risultato finale una melodia strutturata in un modo piuttosto che nell'altro do una mia versione personale delle cose cioè le filtro in modo diverso rispetto a una persona che invece su questo sorvola tranquillamente usando le parole per il loro significato e di andare. Guarda io ti rispondo con una riflessione San Francesco diceva che cantare è pregare due volte meraviglia questo non vuol dire che dobbiamo cantare perché ci sembra di pregare due volte perché ha a che fare con la musica la canzone tocca delle vibrazioni delle onde che ci mettono in contatto col divino la music quindi la canzone che intendeva San Francesco poteva anche non essere fatta di parole San Francesco che ha avuto momenti di misticismo altissimi come non abbiamo trovato in altri santi ci ha parlato di una serie di cose tra cui anche queste che ci devono fare molto riflettere assolutamente sì si dicevano credo nell'ottocento quando viene fuori tutta una serie fortuna nel settecento e c'era un detto che diceva se le ton qui fa la music è il tono che fa la musica ed era una una regola che interessava il bel canto quindi cominciavano sai le opere liriche le opere da camera e c'erano anche questi librettisti che dovevano scrivere quindi innanzitutto la scelta delle parole che avesse a che fare con la musica è il tono che doveva essere utilizzato dal cantante e quindi vedi come siamo sempre là la parola è magica perché è un suono è il suono magico la parola è il è il livello massimo del suono è l'articolazione la sinfonia del suono ti raccontavo qualche tempo fa come per il mondo hindu quindi per gli shaiva nasce la parola la parola nasce innanzitutto dal silenzio guarda guarda che grande simbologia grande metafora di quella che dovrebbe essere la nostra vita la parola nasce dal silenzio perché nel silenzio noi facciamo il vuoto nel silenzio noi ci svuotiamo di tutte le ingerenze esterne anche che influenzano il nostro pensiero quindi prima si fa silenzio vedi anche come in tante religioni c'è il momento del silenzio e del vuoto dopodiché in questo silenzio a livello dello stomaco guarda come non resta tanto il luogo dello stomaco a livello dello stomaco questo silenzio è come se gorgogliasse se piano piano crescesse pensa anche al caos primordiale cresce gorgoglia prende forma e deve stare sempre là a maturare a crescere a un certo punto questo silenzio cresce gorgoglia tanto che sale sale lungo la trachea finché non arriva alla gola ed è tutto questo crescere questo crescere un vulcano a un certo punto arriva alla bocca alla bocca ancora cresce io me lo immagino così tutto che si attorciglia finché si dice in sascrito esplode esplode dalla bocca e quella è la parola sacra quella è la parola che è in grado di far sorgere il sole perché ricordati che il sole sorgeva pensando al big bang eh sì anche guarda un'altra cosa io ti do tutti questi stimoli che riguardano le varie culture una della quindi intanto abbiamo visto poco fa il vecchio testamento che il mondo comincia a esistere quando viene dato a lui un nome quindi Adamo il primo uomo colui che ha l'Adam che è la forza dà il nome ad alberi ad animali a piante e a quel punto tutto quanto comincia ad esistere che bellezza in India c'è un un mito ci sono mille miti questo che dico è sempre sulla nascita del mondo c'è il purusha primordiale il purusha è l'uomo questo uomo primordiale vada chiuso dentro un uovo pensa quante volte l'ha trovato nella nella simbologia l'uovo che alla fine l'uovo può essere anche lo stomaco quindi questo luogo quindi il purusha era là chiuso dentro l'uovo finché a un certo punto così come la parola che gorgoglia ed esce rompe questo guscio e nasce si trova al buio guarda che bella questa cosa mi fa impazzire al buio ha paura perché non sai guarda che è una follia se ci pensi perché dovresti avere paura sei il purusha primordiale non c'è niente oltre te nessuno ti può fare del male ma quando tu non vedi sei al buio hai paura anche senza senso quante volte ci capita di non avere nulla da temere ma siccome ci sentiamo al buio abbiamo paura in questo stato di paura il purusha esplode la prima parola che è bu bu poi in sanscrito diventa il verbo essere guarda poi come in tutte le varie culture il verbo essere ha un potere enorme certo porta proprio all'esistenza all'essere Chiara tu lo sai che abbiamo superato il tempo massimo ciao ma come è bellissimo starti ad ascoltare io ti propongo un caffè ideale e ci ritroviamo subito dopo qua bene così nei prossimi cinque minuti dopo la nostra micropausa andiamo a concludere così nel frattempo anche durante il caffè tiriamo le fila di tutto quanto abbiamo detto per arrivare ad applicarlo nella nostra vita quotidiana come se fosse un va de mecum di gestione del nostro stato emotivo dell'imprevisto che può capitare per non continuare a reagire a ciò che succede ma a fare un passo indietro e al di fuori dell'identificazione che ci viene così spontanea naturale con quella serie di informazioni di cui siamo fatti per prendere la decisione più saggia e più in armonia con le leggi universali che sono le leggi che ci governano e governano anche il movimento dei pianeti e insomma della cosa che noi sappiamo dove siamo la verità è questo del buco di meresia a darle un nome questa meraviglia in cui siamo immersi caffettino ci vediamo anche perché ci fa bene a dopo assolutamente a dopo Chiara a dopo eccoci qui Chiara il caffè è solo non è proprio il tuo caffè è un buon caffè il mio è quello sai che verso cucchiaini e si scioglie nell'acqua allora il mio è quello da macchinetta il mio è quello da macchinetta e quindi è buonissimo sono sicura Chiara tiriamo un po' le fila del discorso che abbiamo fatto anzi di quello di cui ci hai parlato perché il tuo è stato un discorso ampio e partendo dalle origini fino ai giorni nostri insomma fino perlomeno all'antica Grecia i filosofi che ci hanno tramandato proprio un modo di pensare che è nella nostra quotidianità ora trasformiamo tutto questo in un vademecum da mettere in tasca e da utilizzare nei momenti in cui di fronte a una realtà che repentinamente ci si presenta con un imprevisto una nuova cosa con cui avere a che fare allora si sa che più siamo simili all'acqua meglio riusciamo a gestire tutto quello che ci riguarda sia nel mondo interiore sia nelle circostanze esterne ma non tutti noi abbiamo sviluppato questa capacità ci stiamo lavorando siamo in viaggio allora rispetto a quello che tu ci hai dato come know-how prezioso in che modo possiamo metterlo in pratica oggi per gestire il mondo interiore le sue inevitabili reazioni a quello che succede per non cadere nel tranello del karma a fine a se stesso cioè le azioni che poi sono automatiche ma in modo un pochino più consapevole più risvegliato come possiamo fare bene allora partiamo dal presupposto che come abbiamo detto il karma non ci influenza ma siamo noi a crearlo noi ci liberiamo dal karma nel momento in cui ci liberiamo da tutte le influenze che ci bombardano noi subiamo il karma degli altri mica il nostro noi subiamo l'educazione che ci è stata data le parole che ci hanno sempre detto a non diventerai mai nessuno di importante piuttosto a tu sicuramente diventerai una persona importantissima a proposito di parole sono dei mantra che hanno su di noi un potere enorme allora quello che devo uscire fuori da questo incontro è che punto primo tutto deve partire dal silenzio il silenzio è fisico e spirituale il silenzio fisico è la solitudine nel senso è prendere le distanze da tutte quelle situazioni che non ci fanno bene mi inteso che ci influenzano ok poi so che ne parlerai ampiamente dopo aver fatto il silenzio e ascoltiamo noi stessi a quel punto diciamo le parole che veramente hanno a che fare con noi siccome noi non solo siamo angeli degli altri ma siamo anche angeli di noi stessi fidiamoci di quello che abbiamo da dirci liberandolo dalle parole che ci hanno detto gli altri e seguiamolo quindi facciamo come portiamoci a casa l'esempio del purusha purusha che dal silenzio esiste si spaventa del buio come uno scemo ma poi quando pronuncia la sua parola che è la sua ed è la sua parola creatrice che è essere la parola creatrice per antonomasia e la diventa la creatutto smette di avere paura ma soprattutto è il purusha l'uomo primordiale un Adamo tutti noi siamo Adamo ecco questa è la mia conclusione sulla base di quello che abbiamo detto quindi Chiara tradotto in termini attuali spegnere la radio spegnere la tv a un certo punto quando notiamo che quello che ascoltiamo non sia più di aiuto perché attenzione io insisto su questo con i viewer del mio canale informarsi è importantissimo super importante dobbiamo sapere in che mondo viviamo cosa succede tutto questo è buono il punto è innanzitutto scegliere la fonte di informazione che risuona con noi stessi imparare ad avere discernimento per farci largo tra le news che arrivano da tutte le parti poi con la rete con internet siamo sommersi subissati dalle informazioni quindi riuscire a ad avere quel discernimento che serve per ok scremo di qua scremo di là che cosa mi serve e con questo qualcosa poi alla fine trovare in noi nel silenzio la parola magica quella che ci aiuta a gestire la situazione che si crea in noi fuori di noi per fare di quello che abbiamo un miracolo cosa migliore il miracolo vogliamo chiamarlo come vogliamo chiamarlo insomma creare una realtà sicuramente migliore di quella magari profetizzata dalla notizia che abbiamo ricevuto perché anche noi se siamo consapevoli del potere creativo che hanno le nostre parole quindi le vibrazioni che mettiamo anche a livello interno con i nostri pensieri a quel punto staremo più attenti a quello che pensiamo diciamo perché poi queste vibrazioni si trasformano in scelte quotidiane in modi di reagire o agire a tutto quello che ci circonda e quindi siamo noi alla fine a creare tutto quello che pensiamo di subire in realtà co-creiamo la stessa realtà di cui facciamo parte quindi siamo tutti più o meno responsabili di quello che poniamo in essere attraverso pensieri e parole meraviglia quindi parola magica e a quel punto vibrare in sintonia con l'universo e quando sai una cosa chiara io lo dico in modo molto speccio nella vita ho imparato una cosa molto semplice sai per distinguere la via per me da quella che è fuori dal tracciato che mi porterebbe verso la mia piena realizzazione ed è quella sensazione di pace che provo cioè se il mio cuore è in pace allora proseguo quando comincia a segnalarmi che c'è qualche cosa sai perché tutti noi abbiamo questo di sensibilità è solo che tutti noi tutti tutti il punto è che magari ci lasciamo sommergere non ci crediamo esatto non abbiamo abbastanza fiducia nel nostro cuore in quello che ci dice è il nostro forse se vogliamo darci vogliamo dargli un nome qualsiasi comunque la parte di noi che è direttamente collegata con la fonte con Dio ecco guarda io aggiungo solo una cosa tu dicevi quindi spegnere la radio spegnere la tv allora sì ma la verità la cosa bella è che se noi ci abituiamo alla meditazione a fare silenzio noi inevitabilmente siamo noi poi a selezionare la radio e la tv stupendo stupendo perché ci suona non ci suona impariamo a distinguere le vibrazioni che hanno a che fare con la verità tutto ciò è meraviglioso io ti lascio concludere qui perché la frase è perfetta Chiara Chiara Sparaccio Chiara guarda l'unica cosa Sparaccio 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 Chiara Sparaccio perché anche gli accenti hanno la loro importanza Chiara dove possiamo raggiungerti Betapress sicuramente possiamo leggerti su betapress.it il giornale è un blog in realtà Chiara Sparaccio punto wordpress o comunque mi trovate su facebook io poi vi aggiungo con piacere di là beccate un poco il blog che diciamo la parte un po' più spirituale perché tutto il resto è la parte professionale certo Chiara riguardo i tuoi libri si trovano su Amazon se io digito tutti e due perché credo tu ne abbia scritto più io ne ho tre tre ok vuoi dirci i titoli ce li ricordi? certo allora in realtà una è la cadenza delle parole che è quello un po' più filosofico e poi tutti gli altri sono proprio tecnici quindi uno è un testo di diritto tributario l'altro è una raccolta di riflessioni si chiama orti vaganti ecco anche questo un po' filosofico meraviglia allora continueremo a seguirti sul blog su facebook su betapress.it e cercheremo i tuoi libri su amazon un abbraccio grande grazie a tutti di essere rimasti oltre il tempo grazie buonanotte siamo nottambuli stanotte buonanotte chiara a presto ciao e ciao a tutti voi al prossimo appuntamento con la buonanotte da eroe e con ovviamente il soul talk a presto